Cosa sono, o meglio, chi sono gli spiriti di natura? Noi viviamo in un mondo multidimensionale, in un ecosistema multidimensionale, dove esistono delle entità che non hanno un corpo materiale, che non hanno un corpo fisico, che noi possiamo percepire soltanto indirettamente per gli effetti che ci producono, oppure in profondi stati di meditazione. Diceva il Buddha storico Shakyamuni che ovunque c'è spazio c'è vita. E quindi queste dimensioni comunque si intersecano tra loro. E noi siamo partecipi delle dimensioni più sottili attraverso i nostri corpi più sottili, attraverso il nostro corpo sottile, energetico, e attraverso il corpo molto sottile, che è quell'anima che è costantemente in trasformazione, che passa di vita in vita. E noi siamo dotati però anche di un corpo fisico, un corpo solido, un corpo grossolano. Questo corpo grossolano ci ancora la materia e fa un po' da filtro, è come se fosse un rumore molto forte che ci impedisce di sentire i rumori sottili del corpo sottile e le interferenze di queste entità. Entità ve ne sono veramente di vario tipo, come nel mondo materiale delle forme vi sono diversi tipi di entità, diversi tipi di animali, vegetali, insetti, insomma troviamo miliardi di specie. Allo stesso modo nel mondo sottile vi sono tantissime forme di entità, dalle più evolute a quelle meno evolute. Gli spiriti di natura sono spiriti locali, che coabitano diciamo con un certo luogo, sono per così dire ancorati, vincolati al luogo stesso, e possono creare degli effetti, delle interferenze, se vogliamo, con gli altri abitanti, quelli più grossolani dello stesso luogo. Queste interferenze sono interferenze energetiche, ovvio non è lo spirito di natura che esce fuori e ti dà una martellata sulla testa perché gli stai antipatico, però diciamo queste interferenze di natura energetica possono creare delle condizioni negative. Come noi sappiamo affinché avvenga un certo risultato, sottenga un certo risultato, servono le cause e solo noi possiamo aver determinato le cause, quindi attraverso il karma, attraverso le lezioni che facciamo, piantiamo i semi. Però poi affinché questi semi, che prima o poi diciamo matureranno, però affinché possano maturare, servono delle condizioni favorevoli. Queste condizioni favorevoli, un po' come dire, ho piantato il seme, bisogna innaffiarlo, concimarlo, eccetera. E questi spiriti di natura, locali, diciamo, possono creare sia condizioni favorevoli, sia condizioni sfavorevoli. Non per cattivere, ma perché è il loro modo di interagire. Se per qualche modo, o motivo, diciamo così, non si trovano in sintonia, non si trovano in armonia con gli altri, con le altre persone che coabitano nello stesso luogo, hanno dei sentimenti, se vogliamo, negativi. E questi sentimenti negativi, a livello energetico, vanno a creare delle condizioni, diciamo, negative, perché magari generano un umore negativo nelle persone, generano dei malesseri, generano delle situazioni, fino ad arrivare alla possessione, per cui sembra di avere nella testa un pensiero diverso dal nostro, come se ho delle paure irrazionali, delle paure assurde. Per cui è molto importante, diciamo così, creare un'alleanza con questi esseri, che non sono né buoni né cattivi, sono soltanto esseri di un basso livello di evoluzione spirituale, un po' come dire, come se fossero gli animali del mondo delle forme. E quindi, anche come dire, se io vado per strada e vedo un cane, è molto meglio che sia suo amico, perché magari se si nervosisce, si spaventa per qualche motivo, magari, soprattutto se un cane di grossa taglia, potrebbe pure mordermi, il che magari non mi ammazza, però bene non mi fa. Per cui, se io invece riesco a interagire positivamente con questo cane, può lasciarmi tranquillo. Addirittura, se è il mio cane, diciamo, potrebbe difendermi da... in caso di pericolo, ad esempio. Potrebbe comunque cercare di aiutarmi in qualche modo. E come faccio? Qual è, ad esempio, la cosa che discrimina il fatto che un cane, un animale, sia mio amico o meno? Il fatto, semplicemente, è che gli do del cibo, perché gli animali normalmente ti riconoscono se gli dai del cibo. Se gli dai del cibo, diventi amico. Se non gli dai del cibo, potrebbe darsi che sei amico, che sei nemico. Questo dipende da tanti fattori. Ma sicuramente, diciamo, che il fatto di interagire con un animale offrendogli del cibo crea subito e rapidamente un'amicizia. Anche, ad esempio, con una belva feroce, in un zoo, i domatori che danno cibo agli animali creano subito un'alleanza, fondamentalmente. E' quello che noi dobbiamo fare con gli spiriti di natura. Non possiamo dargli del cibo materiale, diciamo così, perché non è che hanno un corpo fisico per cui si nutrono di cibo materiale. Ma il cibo diventa l'intenzione. Perché nel mondo astrale ciò che coinvolge è semplicemente l'intenzione. Per quello che quando si fanno i rituali, si fanno tutte queste cerimonie, queste cerimonie hanno solamente la funzione di creare un'intenzione. Un'intenzione, lo stessa cosa quando si fa un esorcismo, ad esempio, sono sempre dei rituali, delle preghe rituali, perché vanno a canalizzare un'intenzione. Quindi è l'intenzione. Quindi se noi quando arriviamo in un luogo o c'è anche una persona, diciamo, che magari ha delle negatività, eccetera, possiamo semplicemente creare un rituale. L'importante è avere un'intenzione positiva verso gli spiriti dei locali, gli spiriti del posto. E posso accendere un incenso. Ad esempio, all'incenso ci sono degli spiriti che sono molto sensibili agli odori, anche prodotti dal... anche odori fisici, macro. E quindi se noi dobbiamo creare un'alleanza, dobbiamo avere un'intenzione positiva. Possiamo anche a livello rituale fare un'offerta, un'offerta d'acqua, un'offerta di fiori, di qualche cosa, ma non perché loro si nutrano d'acqua o di fiori, semplicemente perché questo canalizza l'intenzione di offrire qualcosa. È come se iniziassimo a creare un'alleanza. E questa alleanza ci permetterà di evitare tutte le interferenze e di entrare in sintonia con gli spiriti del luogo, gli spiriti locali, gli spiriti di natura, che in caso contrario, diciamo, potrebbero anche per qualche motivo, per qualche situazione, come ho detto prima, crearci delle interferenze, dei malesseri, che possiamo tranquillamente evitarci. Quindi quello che possiamo fare, cerchiamo di farlo, soprattutto se siamo in presenza di persone che hanno negatività, perché persone negative, pessimiste, attirano entità negative energeticamente, diciamo così. E quindi è sempre meglio schermarsi, è sempre meglio avere un'intenzione positiva e lasciare andare via queste entità. E come ti do da mangiare, poi te ne vai. Bene, per questo video è tutto. Seguitemi anche sul blog soluzionevip.com, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ciao!